Manca l'acqua per i cittadini e per l'agricoltura. Semplice e drammatico il quadro della situazione. Non solo, circa 157 litri d'acqua al giorno per abitante vengono persi durante la distribuzione. Si tratta della quantità necessaria al fabbisogno di 43 milioni di persone. Lo sottolineano i dati dell'Istat proprio alla vigilia della giornata mondiale dell'acqua 2023. La scarsità di acqua dipende sia dalla crisi climatica che dalla sua cattiva gestione. Per questo oggi la cabina di regia del governo ha affrontato la questione e oggi a fare il punto sulla situazione e sulle azioni da intraprendere si è occupato il primo rapporto sullo stato della risorsa idrica in Italia presentato da Proger dall'associazione Italia Decide. Abbiamo più acqua di tutti gli altri paesi europei che può bastare per gli utilizzi di due itali e non di una. Abbiamo un problema enorme di infrastrutture idriche. Una crisi idrica globale che non risparmia nessun continente o livello di sviluppo economico Europa, Cina, Stati Uniti, Africa. Secondo un nuovo studio tra sette anni la richiesta globale di acqua potrebbe arrivare a superare del 40 per cento la disponibilità della risorsa. Stimando un consumo pro capite pari alla media nazionale, l'Instant ha calcolato che il volume di acqua disperso nel 2020 soddisferebbe le esigenze idriche di oltre 43 milioni di persone per un intero anno. Intanto l'agricoltura è in affanno. Secondo i dati raccolti da Greenpeace Italia il 38 per cento delle risaie e delle culture irrigue italiane è affetto da siccità severa estrema, ovvero soffre per un deficit di pioggia che dura da ben due anni.